castello fiabesco sei stato così bravo oggi che bello ordine ma sei stato veramente bravo non hai rotto niente ho lavorato tutto il giorno sono così stanca mi faccio un bel bagno perfetto non è troppo calda aspetto un pochino mi faccio il bagno e poi giocheremo mi faccio un pochino mi faccio un pochino mi faccio un pochino ma perché acqua è così calda? ho una grande scottatura ciao dottoressaia buongiorno ho una grande scottatura sul piede cosa posso fare? mettere il piede nel ghiaccio? si pronto scusami stessi un attimo si che c'è? no no ti prego niente ghiaccio vieni da me dai ti aiuterò ciao allora sei a posto stessi grazie posso andarmene? certo certo ciao ciao dottoressaia ma come faccio ad arrivare fino alla dottoressaia con una scarpa sola chiamo il taxi si 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 ok si aspetto ciao oh ciao Chris vieni qui mamma mia ma come sei arrivata qui? ho preso il taxi allora fammi vedere il piede ahhh che c'è? ahhh il calzino si è appiccicato mh mh cosa facciamo? ci serve un po' d'acqua mi fa valissimo mi fa valissimo ahhh ok 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 così adesso il calzino diventerà bagnato e lo toglieremo ok? così si così non fa male ah che bello stare nell'acqua fresca ma perché mi hai vietato di usare il ghiaccio? eh sì perché l'acqua troppo fredda può danneggiare la pelle ehhh ok e cosa facciamo adesso con questa scottatura? ho una crema molto buona per le scottature eccola qua è una crema molto forte così si non mi fa più male ma la scottatura c'è ancora si ci servirà qualche giorno per questo prendi per favore un paio di giorni liberi al lavoro come è successo? ah un paio di giorni liberi che bello ma è stato il mio gattino ma come il gattino? lui stava giocando col rubinetto ma lui non ha altri giocattoli? ho un'idea lo so cosa ci serve cosa? i dolcetti? per un gattino? no ma no i dolcetti sono per te mangia che buono e per il gattino ci servirà questo e questo vedi? è un giocattolo per lui si lui giocherà e non farà più i danni si allora è la mia crema forte per te è un giocattolo per il gattino grazie Aya non so come ringraziarti ma figurati giocate con piacere ciao chris ma calzino è con voi ragazzi ci vediamo molto presto ciao chris ups grazie Aya ciao